Decreto IRPEF, la Lega Nord quali emendamenti ha presentato? La Lega Nord ha presentato circa 200 emendamenti e ovviamente gli emendamenti vanno a favore dei nostri cittadini, delle nostre imprese e dei nostri comuni. Perché diciamo questo? Perché noi riteniamo corretto che i famosi 80 euro non vengano dati solo ai dipendenti, ma anche a quei tanti lavoratori autonomi che secondo noi è giusto perché altrimenti si fa una differenzazione non corretta e anche ai pensionati. Infatti con il nostro emendamento dal 2015 noi li vogliamo dare anche a queste categorie. Altro emendamento sempre a favore delle imprese perché ricordiamo che sono le imprese che danno lavoro. Abbiamo chiesto che la deducibilità dell'IRAP sia maggiore e quindi sempre in modo che le imprese possano riprendere e dare lavoro. Un altro emendamento è a favore dei nostri comuni virtuosi, dei nostri tanti sindaci che a fatica riescono lo stesso a chiudere i loro bilanci in pareggio. Mentre viene consentito, e non si capisce il perché, ai soliti comuni, e guarda caso molte volte sono del sud, dove addirittura a questi comuni gli si permette di mettere nei piani di rientro debiti fuori bilancio. Noi non capiamo queste motivazioni, è per questo che noi abbiamo presentato emendamenti. Altri emendamenti sono sull'Imu. Anche in questo caso abbiamo fatto sì che l'Imu sia deducibile, l'Imu pagata sui beni di impresa, sui capannoni, sia deducibile dalle tasse. Altro tema è l'Imu sui terreni agricoli. Tante persone dicono che l'agricoltura è importante, questo governo dice che l'agricoltura è importante e poi la penalizza. Perché nei fatti non sta facendo nulla nei confronti dell'agricoltura. Noi invece vogliamo che anche i terreni non abbiano più l'Imu e gli agricoltori possano finalmente lavorare come hanno sempre fatto.